Basta con gli sprechi di denaro per gli show. Il momento che stiamo attraversando è turbolento, ma ci offre la possibilità, unica davvero, di aggiustare quello che non va. Di togliere il superfluo, di ritrovare una dimensione più umana. Questa è forse la più importante lezione di questa crisi. Grazie per la visione!